Ma sai che ti dico? Se tenesse pure un generale sai che mi importa! Pul considerato da Plauto uno dei suoi capolavori, il truculentus è stato raramente rappresentato. La storia narra di una bellissima prostituta che abilmente tiene in pugno le sorti di tutti gli uomini che ruotano intorno alla sua casa, tipici caratteri della comicità plautina che gareggiano fra loro per acquisire i favori della donna. L'originale riscrittura di Vincenzo Zingaro trasferisce la vicenda alla fine degli anni 30 in Sicilia, dando vita ad un affresco storico di grande impatto emotivo. C'è una vena poetica e una vena anche drammatica in usuale, per questo è davvero uno spettacolo di Plauto insolito che rappresenta una tappa molto significativa del percorso di ricerca e di rivisitazione della commedia classica che qui affrontiamo con la compagnia Castaglia al Teatro d'Arcobaleno da oltre 24 anni, portando la commedia classica in giro in tutta Italia, nei grandi teatri romani e greci, e in un progetto che insomma ci ha dato veramente tante soddisfazioni. Una marcorda alliechi felliniani che ci trasporta in un'unirica e scoppiettante vita di provincia, dove personaggi plautini si trasformano in ritratti familiari a dimostrazione di quanto il teatro latino abbia un radicato fondamento nella vita del nostro paese. Una rappresentazione metafora di un viaggio divertente e commovente nel mondo della commedia classica antica che è possibile vivere e rivivere fino al 20 marzo al Teatro d'Arcobaleno. Grazie! Grazie!